Rapini in via Roma, aggressioni, violenze, e lo abbiamo evidenziato come Fratelli d'Italia. Perché? Non per discostarci dai nostri alleati, ma perché riteniamo, e questo fa parte del nostro programma, è un elemento centrale. Vi assicuro, sia come residente, come esponente di Fratelli d'Italia, che un problema di criminalità c'è, c'è stato, c'è in questo periodo, come c'era nel momento in cui governava il centrosinistra Manilbo. Alleati sì, parliamo del centrodestra, ma di fronte ai fatti non bisogna nascondersi dietro ad un dito, dice lineare e diretto come sempre Fabio Crea, Fratelli d'Italia, che solleva per la città di Treviso il tema della sicurezza in diretta su Antenna 3. Tutto quello che viene in un quadrante della stazione di via Roma, adesso di via Fiumicelli, di piazza Borsa, esiste. Non si può tutto, come dire, dire sì ma sono ragazzi o goliardate, come se... No, c'è un problema di criminalità, oggi i residenti di Treviso il sabato pomeriggio non escono più. Il partito di Meloni potrebbe avere un peso politico considerevole nelle prossime amministrative. Crea Lancia Lamo, il partito che sostiene la corsa di Mario Conte, potrebbe puntare a soffiare l'attuale sindaco la competenza. Ricorda sul tema le ordinanze anti-alcol, le uniche che per l'allora vice sindaco Roberto Grigoletto avevano funzionato. Il sindaco del resto ha scritto ai ministri, a mezzo governo, per chiedere aiuto. È una missione questa di debolezza, si è reso conto che effettivamente non ce la può fare, ha tolto il distintivo dello sceriffo e ha chiesto aiuto. E tende la mano. Noi non speculiamo, soprattutto sotto le elezioni, ma siamo disponibili a dare una mano all'attuale amministrazione. Però occorre anche fare delle scelte, non bastano le parole. La situazione oggi è davvero imparagonabile ai noi. Purtroppo Treviso è diventata una città insicura proprio per la presenza di queste baby gang.